sono insieme siamo qui il nuovo video su Kimdoms permette di fare domande su qualsiasi qualunque gioco per esempio Clash Royale come vedete sono così il caso magari domenica avviene anche Stephanie quindi andiamo subito alle nostre domande quando trovi il re trovi tutto prendi una colonna e le domande sono via buono 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 questa domanda quasi sicuramente tre nel ragionamento giugno 2016 quali sono state le modifiche al bastione arrico non lo so non c'ero le carte sono cipitero boscaiolo scintilla non lo so strigone elettrico drago infernale mastino e mina cacca questo sì bene 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 continuiamo quindi quinto ci dovrebbe essere sei sì abbiamo fatto con il prossimo aggiornamento quanti stregoni o maghi ci saranno che carta è ma che nessuna delle precedenti principessa sì abbiamo vinto signori continuiamo seconda che cosa è rispondi correttamente a due domande su tre fino a giocare bene il tronco a due quanti punti ferita distrugge la principessa quindale non so che cosa è la bomba 1 giusto il tronco cosa calca il domatore all'interno del gioco un cano cinghiale un codino maiale cinghiale giusto tu non sei fatto come me questo subito il re subito il re rispondi correttamente a una domanda e vince una corona quale tra queste qualcuno a queste è una leggendaria tra queste corretto signale molto corretto che subito il signore subito il re quante monete sono necessarie per migliorare la cintillità livello 2 giusto corretto se tre corone un versario cosa succede beh facciamo un'altra quante gemme costa il baule super magico in arena 9 6 4 4 4 6 giusto che cos'è 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 questo è l'arena questa qua è la sì è signore ma dai sulle domande quanto costa un deck che con le carte in arena 4 allora più tempo più tempo allora giusto a casa ma io non fa ancora pirata pirata oh ah spero di quanto a me ne la principessa una principessa ok ma io la baule leggendaio sicuramente io sto aspettando quel baule leggendaio oh a me qualcosa di buono quante sono leggendari dopo l'aggiornamento di marzo 2016 cazzo vuol dire posso andare come si chiama la leggendaia che si può che si può posizionare in tutto il campo cimitero come anche al cimitero sul campo vero mi piace mi guardo il video perché i messaggi a poter OH finalmente qualcosa di buono ma quanto dura l'effetto della pulsore¿VOREDO? yeah secondi insomma 13 10 la pubblicità ci cagliano di pubblicità ragazzi questa è l'ultima volta però ragazzi poi facciamo anche il crash segnali quale truppa fa più danno tra queste peccano un gol fiera ancora scelte questo baule qual è questo baule ma super magic gigante altre trovi in arena notto boscaiolo guone a manci di bari e gol principe nero questa è gigante spiega di ghiaccio bocciatore bocciatore e boscaiolo però anche con le di viaggio ha detto va bene 4 2 supplementari nei torni 3 minuti giusto solamente una domanda vincere corone ok come si chiama l'ultima carta destra bocciatore mi sembra ok mi confondo con la sinistra la destra battuta sei battuta sei battuta quanta esperienza si riceve girando una carta comune di livello 7 a 8 100 questa la so questa la sono già fatto la tornata porco zeus correttamente ha una domanda per continuare la tornata è di che tipo è normale questo è epica epica no no cosa fa questa carta costruisce mini scava una bocca con una spada questo scava un tunnel sotterranno con una palla questo è anche se non ce l'ho mi devi avere di chi in realtà è la strega rara epica leggendale continuiamo non lo vanno a continuare a giocare qual è l'arena adesso rappresenta qual è l'arena rappresenta 10 ragazzi ragazzi buono 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 a te questa zampe fulmine 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 scarica scarica si pietro tempesti pietro fulmine quanto dura la veleno a livello 1 secondi quante le sinali ci sono giusto si il gore quando esplode quanto danno fa ragazzuoli 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 un euro braverva vita cavolo no 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 quindi ragazzi finito così e ci vediamo al prossimo bella ragazzi ciao ciao